Giordano. E di che classe sei? Quinta D. E oggi c'è stata la prima prova dell'esame di Stato, prova italiano. Che prova hai scelto? Ho scelto la tipologia D, ovvero il tema generale sulla musica. Sulla musica. Vuoi mai questa scelta? Sei appassionato di musica? Sì, suono il basso, un gruppo, mi piace molto la musica. E quindi come ti è sembrata la prova, come è andata? Ma abbastanza facile, però vabbè, speriamo sia andata bene. Di che cosa hai parlato? Ho parlato dell'influenza della musica, sulla società e sulla massa. E quindi anche tutte le implicazioni che ci sono dietro. Domani c'è un'altra prova, sei pronto? No, però vabbè, speriamo anche in quella, crociamo le dita. Quindi oggi andrai in spiaggia o a studiare? No, penso che starò un po' in spiaggia e poi studierò, giusto per non sentirmi in colpa.